Tema dell'edizione 2024 è la connivisione degli spazi pubblici urbani dove vive oltre il 70% dei cittadini. La settimana europea della mobilità è aperta naturalmente alla città. Sono tutti invitati a unirsi con azioni o eventi che promuovono un cambiamento comportamentale verso una cultura della mobilità urbana più sostenibile. Per sapere come proporre un evento consultare la pagina dedicata sul sito romamobilita.it Grazie Tema dell'edizione 2024 è la connivisione degli spazi pubblici urbani dove vive oltre il 70% dei cittadini. La settimana europea della mobilità è aperta naturalmente alla città. Sono tutti invitati a unirsi con azioni o eventi che promuovono un cambiamento comportamentale verso una cultura della mobilità urbana più sostenibile. Per sapere come proporre un evento